e ora mi faccio un bel lampo prodottino sale pepe salsa verde e si inzuppa anche il pane ragazzi si guarda i lampo redotto oggi ragazzi bagniamo sale pepe e tanto assanzamenti no no vai andri no no puoi usare come te perché c'è la pezzo neanche buca buca tanto si sdraci il divano no no c'è la pezzo neanche la pezzetta si sarà il mio aereo che ti fa male di molti sono tutti quelli che l'alcone fa la pressione lo fa da l'alcone la fa abbassarla non fa le donne non ti fa male davanti a parte non ti fa male di pezzo ma lei si c'era grazie a lei ho trovato via c'è una volta che sono apriata c'è una pressione l'era 62 e 48 e io so che chi per te ho trovato via ora ho trovato via ma ho trovato via ma Allora, un po' poco sale, un po' verde, tanta salsa. Ma questo è il prestigio, più sluzzi. Sai di quei picchiani di osso? Da tempo o da poco? Aspetta in giro. E' anche quella salsa di vino.